bello a tutti ragazzi bentornati nel tar channel io sono dal prunice e benvenuti in questo nuovo video dell'addestramento in compagnia di bingo 7 ok ragazzi allora adesso quasi è cotto tra l'altro un bel po di ferro nel frattempo ho finito di sistemare il coso qui sono i materiali dell'altra volta allora con questo ferro guarda adesso puoi anche evitare di usare i picconi di pietra perché vanno già preso quello di ferro ecco ma ne ho fatti altre due ottimo poi 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 facciamo un bel secchio 1160 gesti and achievement getting an upgrade ok ho preso un bel secchio di lava e ce lo teniamo qua anzi io direi non nascava molto più velocemente eh sì 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 ormai usa quello perché tanto ne abbiamo di materiale yes allora adesso ti faccio ti faccio ok allora ne faccio due ottimo pantaloni oh guarda che c'è qua dietro che che ci sta altro ferro e altro ah la resta si si prendila prendila oddio che figata ma cosa serve pantaloni e per ora lasciamo qua questo tieni vieni qua uno e uno due sembra un kinder pinguì ok ragazzi adesso dobbiamo ricominciare con la nostra exploration one nation dobbiamo trovare diamanti vabbè sto piccone l'ho capito è fondamentale che noi troviamo i diamanti ma è questo mi stai a spingere la lava aspetta fammi fare a me queste azioni pericolose ok non rischiare di morire inutilmente ma dobbiamo salire o scendere no no ci dobbiamo mantenere su questo livello quindi né salire né scendere più o meno si prenditi un po di cobblestone appresso basta anche poco il resto della roba lascialo nella cesta capito questo lo sarà il nostro mini accampamento diciamo però metti qualche altra doccia qua e dai andiamo io ricomincio a scendere verso il basso un po dove stai dove stai qua sotto c'è ma tu scavi così sotto i piedi eh sì me la rischio oddio la lava la lava la lava togliti vai via no 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 sto morrendo poi ti devi togliere ti devi non mi devi chiudere sono morto non ci credo tu come sei morto mi hai chiuso dentro mi hai fatto una tomba mi hai ucciso da vivo dove sei c'è fatto una cripta sono morto e non ti veda lo spawn perché stavo ancora riflettendo dobbiamo correre giù abbiamo pochissimo e mo come cacchio scendiamo è visto in che situazione mi so trovato io guarda è il cascano le gocce di lava e tu non scavare la ce ne scavo di che ti casca tutta la vada scava vedi un po no 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 ho altro ferro bella 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 problema che troviamo solo questo fottutissimo ferro vabbè meglio di niente no vabbè però noi ci saranno i diamanti io ho finito il piccozzo ce l'ho io un altro tieni tieni ah eccolo è di ferro quindi dovresti andare molto più spettito cioè poi ragazzi io non so come fare perché se ve lo velocizzo non lo so perché questo video sta uscendo non lo so è ignorante come d'altronde tutte le cose che succedono da quando ci sta lui sul canale guarda ha trovato un pecco di carbone cacchio le migliori trovate ci sta la pietra che mi casca addosso quella che mi hai fatto vedere c'è un po di torce sì sì ce l'ho le torce perché qua secondo me è un'area abbastanza prolifica lava allora qua ci sta carbone ok questa altezza la pietra rossa in teoria ad altezza lava dovrebbero starci diamanti ora mi rischio a fare una cosa molto acabe intorno alla lava allora proviamo da vedere di qua non venire dove sto io per favore che non voglio avere pericolo no no sto scavando da tutt'altro lato meno male no perché siccome sto facendo una cosa molto pericolosa non vorrei che cazzo stavo per cadere nella lava ok ok è un lavoro pericoloso ma io non trovo i diamanti perché 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 oh merda che cosa è successo cazzo ho aperto una voragine di lava qua siamo capite che dici di cambiare caverna ti ho detto che la cripta era protetta dal forzionale no no la cripta avrà poca vita ancora la cripta ma io sono tornato alla base senza volerlo è buono buono aspettami lì cioè scavando vedi un po' io mi ho trovato un tunnel che sto seguendo sperando di trovare qualcosa però la vedo tura 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 come la pietra col pesce crutto pesce crutto però non lo so io comunque stai sicuro che ci sarà un episodio da solo in cui io distruggerò la cripta però fammela prima a finire ah giusto perché dobbiamo perdere più tempo no guarda mi è venuta un'idea fantastica a noi nella cripta dopo oggi spegniamo tutte le torce le abbandoniamo e poi ci torniamo per riesplorarla e vedere tutti i mostri ah giusto perché è bello suicidarsi vogliamo fa facciamo così tanto poi la demolirò con la tnt app e non la faremo ragazzi io ve lo giuro anzi facciamo così se in questo video vi sto lanciando una sfida ragazzi eh questo video arriviamo a 50 mi piace però 50 mi piace ve lo giuro crafterò la tnt e demolirò la cripta quindi ragazzi se voi non volete vedere quella cripta dovete lasciare sto trovando l'oro eh buono 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 i diamanti veramente non è che sono in lapis aspetta fammi vedere questa scena ragazzi ve la devo far vedere arrivo oddio potrebbe aver fatto una svolta nella serie assurda guarda aspetta sta scavando la via verso di me ragazzi potrebbe aver fatto una cosa utilissima per la prima volta nella serie stavano proprio dietro la base dove diamanti allora scaviamoci intorno innanzitutto oh cazzo ce ne stanno altri guarda aspetta prima di romperli scaviamoci intorno perché metti che c'è la lava dobbiamo essere sicuri capito altro ferro ma tu qua sotto non c'è la lava ok rompiamo i diamanti allora siamo a quota uno due tre quattro e ce ne sta forse un altro io ne ho tre io ce ne ho due ottimo piccone spada fatti aspetti te li posso guarda stanno là ok allora io direi che se facciamo così abbiamo trovato un po' di diamanti lascia tutta la cobblestone che tanto non ci servirà più di tanto e riempiti più che puoi di materiali importanti quali sono ferro l'oro è importante l'oro più o meno però prendilo prendilo tu prendi tutta la roba importante capito ok una volta che hai riempito vabbè l'ho presa già tutta io la roba importante prendi tutto quello che ci sta più che puoi vabbè mi tengo l'oro tienitelo già più roba riesci a prendere prendila io per esempio mi sono riempito adesso vabbè mi sono ripreso tutte le cose a posto qua la possiamo anche lasciare tutto allora adesso dobbiamo essere molto attenti dobbiamo tornare indietro eh mo so cazzi allora la cobblestone ce l'hai un po' tu si 64 va bene poi se ti finisce ce l'ho io ah no ce ne ho tre blocchi da 64 allora ragazzi qui sarà un bordello uscire da questo tunnel vabbè però ormai dopo che sono morto so già dove più o meno ho dei piatu con cose di per di pietra io c'ho quello di legno aspetta eh ok io intendo risalgo ah tu risali su? si eh io sono già su allora ragazzi mi raccomando vi ribadisco 50 like a questo video e tutto questo posto verrà distrutto allora io scappo verso casa perchè ho i diamanti quindi non posso rischiare di morire allora adesso riattappiamo il buco che avevo fatto a casa ottimo oh allora io adesso sai che faccio? dato che comunque abbiamo poco fe e poco cose la cobblestone la lascio tutta qui però i materiali quelli belli della miniera li metto in un'altra cesta a parte capito? si ancora non sono riemerso ancora? eccomi ah sto proprio vicino alla cripta eh eh io già sto a casa allora io direi di fare una cosa così tipo in quest'angolo ci mettiamo diamanti redstone ferro oro altra redstone carbone lava ferro ok allora ragazzi prima di concludere questo video cuoquerò il ferro ottimos prime perfetto qui abbiamo altro carbone ok uno qui e un altro qui comunque ho dato un'entrata più dignitosa alla cripta si si tu dai quello che vuoi che tanto non durerà sarà la tua cripta dai però ci ha portato a fortuna sta cripta senti qua che ci metto l'oro? qua ci devi mettere solo materiali importanti il resto della cobblestone nell'altra cesta ma non facciamo altre fornaci? come prima? eh ormai sta facendo bastano allora inizio a fare altri pezzi dell'armatura ottimo tieni l'elmetto preso? yes adesso me ne servono oddio non so se ci riusciremo ad avere anche i piedi completi si si forse ce la fai però poi noi non abbiamo più ferro giusto? e allora ci facciamo d'oro? eh si metti a cuocere l'oro va ce li facciamo d'oro perché il ferro ci serve ok ma che finisce qua il ferro metti subito l'oro dividilo in due capito? vai metti già nella prima fornace l'oro vabbè faccio un'altra fornace ma sta a posto sta a posto non serve vai metti l'oro dentro dove? dentro le fornaci no mi è cascata spesso di mettere la goblet tutto lo metto? si tutto è 16 ho già fatto la divisione dei panni e dei pesci andiamo a dormire e domattina facciamo un attimo oddio sta un creeper fuori porca miseria dormi! dove sta? tu mettiti a dormire che domani mattina adesso prima di chiudere il video dobbiamo rimuoverlo ok allora adesso sta vicino alle piantagioni ecco non usciamo in modo avventato allora lì c'è un coso questo ok il creeper sta lì sotto dobbiamo cercare di ce ne sono due perfetto le frecce non mi basteranno mai ok ma queste fanno le frecce a proposito ci vuole la selce uno stecco e delle piume le piume le abbiamo dobbiamo procurarci ok perfetto guarda adesso fai accoppiare gli animali perché sono tutti cresciuti raccogli il pane lo faremo tutto off camera queste cose adesso sapete che faccio ragazzi prima di chiudervi completamente il fiteo romperò la gravel cercando di trovare almeno un coso per fare un accendino così possiamo finalmente dargli fuoco ragazzi che devi trovare? devo dare fuoco a te no ma che devi trovare? ecco qua quello che ho già trovato questo bordello in casa mi verrà tolto ho già trovato quello che mi serviva allora perfetto allora tra fammi prendere l'oro che faccio i piedi perfetto uno e uno due uno e uno due perfetto ottimo vieni qua tieni wow sembriamo tipo due due nigg con le scaccole nike sembriamo due scemi sì allora vieni fuori ti faccio provare una cosa molto figa vieni che cosa hai fatto a questa cripta? mi ho fatto un portale allora lo facciamo proprio nella cripta un attimo faccio un buco qua va bene? dopo lo riattappiamo ok scendi dentro al buco aspetta fermo 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 sono caduto ti devo far provare una cosa troppo figa fermo fermo ah pensavo che già sei salito no ancora rimetti mo che salto rimetti il blocco ok eh lo rimetto butta butta me lo butta me lo aspetta togliti ti faccio la scala faccio aspetta fermo non esce buttami un blocco ok non esce se no capito a posto allora muori tu è la tua maledetta cripta c'è un problema gli spiriti della cripta si vendicheranno no c'è un problema c'è un problema molto più grave va vero che è successo è grave la cosa no no è peggio comunque guarda guarda quanto cazzo di grano è pronto eh si si un po' dopo lo andiamo a prendere comunque è un problema ancora più grave ovvero tutta la tua roba è finita bruciata no c'avevo solo la spada di ferro per fortuna madonna meno male e i picconi di ferro dove ce l'hai e li ho finiti guarda ti meriterai giusto un'altra spada di ferro proprio perché sei stato bravo e perché ho trovato i diamanti ecco vabbè ragazzi questo video l'abbiamo allungato di non so quanto però tieni guarda che ti do tieni tutta per te ok vattela a prendere vabbè ragazzi vi ricordo di mettere un bel mi piace scrivere e commentare e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao